Assessore Tinti, cuore comune, seconda edizione. Il comune ringrazia i cittadini. Diciamo che è un grazie della città alla città perché con questa seconda edizione si riconoscono i meriti, l'impegno, il contributo importante che persone volontarie e poi realtà associative fanno per la nostra comunità, per plasmare una comunità che è accogliente e solidale. Con questa iniziativa che ormai ha preso piede, l'anno scorso è stata molto partecipata e speriamo anche quest'anno, si vuole davvero riconoscere, accogliendo anche le proposte che sono venute da tante segnalazioni e poi una commissione che ha elaborato insomma quelle che sono poi i meriti che vengono riconosciuti a delle persone e a delle associazioni, si vuole riconoscere una sorta di ringraziamento collettivo nei confronti di persone e realtà che si sono impegnate e che fanno grande, forte il tessuto sociale della nostra comunità. La serata chiaramente si svolgerà come sempre al Teatro della Fortuna ed è davvero un modo per abbracciarci tutti insieme e dire grazie a coloro che fanno la differenza in questa città e lo fanno mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore. I nomi saranno svelati durante quella serata ma quali sono i settori dove più di altri si sono rilevati questi apporti benefici per la città? I settori sono quello dell'impegno nei confronti dei migranti, quindi dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri, nei confronti delle persone con disabilità, nel settore dello sport, nel settore anche della cultura, dell'ambiente. Sono questi i settori caratterizzanti, queste occasioni servono anche per fare in modo che la città in tutta sia sempre più consapevole che grazie a queste persone possiamo davvero essere fortunati per avere davvero un tessuto e una comunità che è sempre più solidale, accogliente e inclusiva.